Secondo aspetto, ritengo che gli altri referendum, quali in particolare ce n'è uno alla quale sono molto disposto a fare tutto il possibile perché venga non solo ammesso nella raccolta delle firme ma addirittura che possa essere poi coronato da successo è quello che riguarda la vicenda relativa all'ergastolo. Io ritengo sotto tutto il punto di vista che una speranza sia pur piccola non debba mai essere eliminata per chi che sia. Questa è la sua vocazione, il suo gusto direi anche e io per questo motivo sono lusingatissimo di oggi essere qui a fianco a lui. Faccio un'ulteriore considerazione, il rapporto con il partito radicale ma comunque con Marco Pannella, con le battaglie radicali non è una cosa che nasce oggi per quanto mi riguarda e quindi non deve essere assolutamente confuso con quella che è stata anche ieri nell'occorso dell'ufficio di presidenza nazionale del quale io faccio parte l'indicazione che è venuta dal nostro partito nazionale. Quindi partito nazionale che nel caso specifico per bocca del suo presidente ha dichiarato ieri all'ufficio di presidenza mettendolo comunque all'esame dell'ufficio di presidenza l'adesione convinta a questa fase referendaria. Ma non ha nulla a che vedere con quella che è la mia convinzione personale che risale a prima che io iniziassi la mia esperienza politica. Quindi prima del 99, stiamo parlando quando Marco Pannella era giovane, risaliamo veramente indietro. Adesso è adulto come abbiamo spiegato in un'altra occasione. E in quell'occasione io sostegni già allora... Ma eri l'attante allora? Non so, appunto, vedi, però dopo... E quindi ero forse per alcune cose anche buona... Sostegni non solo alcune battaglie radicali, ma è la prima tessera di partito che io abbia mai avuto. Dopodiché sono stato eletto sindaco di questa città senza essere iscritto a nessun partito. Sono stato eletto presidente della regione senza essere iscritto a nessun partito. La seconda tessera che ho sottoscritto nella mia vita è stata quella del PDL quando si è costituito. Quindi c'è anche quest'aspetto che mi porta a sostenere con forza questi referendum, a fare tutto quello che è possibile affinché possano essere coronati da successo.